via via parola brazie vai paccaro paccaro occhio che cerca di saltare bene nella guarda quindi sta in pressione l'uomo ticassi la carbozza l'uomo di sbilanciamenti al triangolo purtana se scivolo se decidi di salire sforbici con le gambe, la sinistra avanti Mauro se sali sforbici con le gambe si così si continua prima vieni fermo con il ginocchio vieni fermo con il ginocchio adesso devi andare a croce testa a braccio a croce a croce Mauro devi andare la mano a destra occhio non vuoi entrare con il ginocchio ok così testa giù togli quel ginocchio con la mano destra prendi il soppietto a me vuoi non mancherà occhio e non farti girare non farti girare stabilizzare momento giugino occhio secondo me mi piace perché giugino anche togli quella mano destra dietro la testa torre indietro se non lo faccio la mano non lo faccio non lo faccio il teatro lo 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 con la mano sinistra si cerca provato sforbiciando pesa occhio che ti sbilancia continua giù bravo adesso muola la gamba e vai testo abbraccio muola la gamba tienile il braccio lasciarlo andare non lasciarlo andare non 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 la cosa del corridore non scriviamo al braccio ma non 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 si stabilizza la posizione adesso bravo con la mano destra prendi il polso giù giù sali risali risali non 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 mi ha bloccato in pantaloni il no non non ma non 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 ma collo braccio, collo braccio, no tutto il torace. 30 secondi. Occhio a Chesa Katame, 10 secondi, ribaltalo col peso di qua, spingi, 8, 7, 6, 5, 4, no, fine, fine, fine. Grazie. 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 Grazie.